Roberto Piazza La location in cui stiamo facendo questa presentazione per il sole che ci sta baciando credo che sia una giornata perfetta. Mi auguro che sia semplicemente il preludio anche per una stagione che possa rispettare le stesse aspettative che si stavano formando l'anno scorso quando abbiamo terminato la stagione, quando la stagione forzatamente è terminata. Per cui oggi iniziamo a muovere i primi passi verso il futuro.